Giorno, fermatevi un attimo, mi chiamiamo un attimino, no, non vi preoccupate le buste di spazzatura vostre, aprite un attimo il canto, aprite un attimo il canto, state qua, le due buste di spazzatura e questi signori devono buttare, maestro io vi consiglio di fermare, perché vediamo i carabinieri e vediamo un attimino tutta questa spazzatura che portate, vi consiglio di fermarvi, vi consiglio di fermarvi perché adesso chiamo i carabinieri e vediamo un attimino queste buste di spazzatura, non vi preoccupate, tutto resta presto, non mi interessa, mi interessa il giusto, tutto in viva voce, questo è il numero di targa, eccoci qua, vedi? Pasquale, urgentemente una battuglia in compagnia, c'è un formato in ugamia che viene da Fratta Maggiore, urgentemente una battuglia, sta qua, sta qua, Pasquale, sto qui in video, sto confermando tutto quanto, la c'è un formato, non mi interessa, c'è un camminino, avete scaricato già tre buste di roba, ma se è sufficientemente una battuglia e c'è, io con questo sì, i carabinieri, i vicini, io con questo sì, stagliendo le roba, non traccia, aprite un attimo questi sacchi, maestro, aprite un attimo questi sacchi che avete scaricato, Pasquale, mandami una battuglia, non mi interessa quello che è, no, quale per piacere, il piacere ne facciamo a nessuno, non mi interessa proprio, sì sì, non è erba, non è erba, apriete un attimo, apriete un attimo, non vi preoccupate, hanno tagliato una pianta, aprite pure quest'altro, come no, la prima busta che avete scaricato, maestro, la busta che guarda, non mi interessa guarda, aprite, come no, è la prima busta che avete scaricato, no, no, non è mica, è la prima busta che avete scaricato, maestro, non grigate, non grigate, Guardate che hanno tanto, ecco qua. Ho qua, ficare lieauto ecco qua.